prendilo bene, cosa c'è scritto su questo foglio? leggiamo bene tienilo lì, grazie Gabriele e Gianni, digli grazie grazie per i bel regali che ti hanno fatto fai vedere bene il cartello, fai vedere bene il cartello fai vedere bene cosa c'è scritto tienilo fermo, bravo a non romperlo, fai vedere quello c'è scritto, che la gente vuol leggere bravo, fai vedere, gira qua grazie